Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, vietato al transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio, chiuso in direzione Roma il tratto tra Rioveggio e Aglio. Sulla A12 code a tratti per lavori tra Versilia e il Bivio per il raccordo Lucca-Viareggio. Sulla Fipili, due chilometri di coda per lavori in direzione mare tra Ginestra e Montelupo. È chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Sulla statale 64 Porrettana, all'altezza della galleria del signorino, restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!